Onorevole Testa, ieri avete diramato un documento piuttosto duro su quanto accaduto nei giorni scorsi, da come è venuto fuori, proprio dalle questioni che riguardano il caso Cospito e polemica tra centro-destra e centro-sinistra e voi vi siete rivolti ai consiglieri di centro-sinistra in maniera piuttosto dura. Molte cose sono state dette e sono state riportate anche dai giornali, dopo la visita dei quattro parlamentari del PD, quindi quello che sembrerebbe che si sono detti anche con Cospito e quindi il collega Donzelli ha detto di fare chiarezza. Noi non vogliamo alimentare polemiche, noi dobbiamo dare un segnale chiaro a tutta la nazione che siamo a favore del 41 bis, siamo contro la mafia e i toni si sono sicuramente surriscaldati però si è stata fatta una domanda lecita e spero che questa chiarezza venga data anche dal punto di vista del PD. E sembra che leggendo i giornali, sempre se tutto ciò dovesse essere confermato, forse chi dovrà fare chiarezza sono proprio i rappresentanti del PD. Sulle condizioni di salute di Cospito poi il parlamentare pescarese ha aggiunto La tutela della salute sacrosanta dei detenuti viene sancita dalla Costituzione e quindi è ovvio che lo Stato deve garantire la salute non di uno ma di tutti. Non ci sono detenuti di serie A né detenuti di serie B.